Non crederete a quello che state per leggere nella notte tra venerdì e sabato è successo di nuovo il triste ed angoscioso episodio già riportato tempo addietro. A denunciare pubblicamente tramite social l'accaduto è il titolare della tabaccheria di via Marco Perennio. Si tratta della terza spaccata nei distributori self-service in pochi mesi. Nelle mire dei vandali, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, è finito di nuovo il distributore automatico danneggiato irreparabilmente nel vetro ancora una volta, probabilmente nel tentativo di sfondarlo. A colpire particolarmente il titolare adesso è stato il modus operandi. I vandali, come si vede dalle immagini, hanno infatti parcheggiato l'auto sotto le telecamere senza badare al fatto che avrebbero potuto essere ripresi. A volto scoperto sono entrati nel negozio e si sono trattenuti dieci minuti tra i distributori, poi sono usciti e di nuovo entrati. A questo punto si sono lanciati in coppia contro la vetrata. Solo uscendo hanno guardato le telecamere e uno dei due a questo punto ha deciso di mettersi un cappuccio. L'episodio adesso è al vaglio degli inquirenti. Le forze dell'ordine, visualizzando anche le immagini, stanno cercando di capire se fossero presenti anche altri complici.